Ciao e benvenuto nel canale YouTube di Omron Italia. In questo video tratteremo i primi comandi che ci consentiranno di movimentare il robot. Vedremo come è possibile definire una location oppure un precision point e come è possibile movimentare il robot verso un punto che è stato definito. Inoltre vedremo dei comandi che consentiranno di selezionare un robot e di associare un programma ad un task. Apriamo ACE. In questo caso siamo collegati direttamente al controllore del robot. Infatti possiamo vedere che in basso a sinistra non è stata spuntata la casellina che consente di aprire un progetto in modalità emulazione. Clicchiamo su Connect to Device. In questa schermata è possibile verificare all'indirizzo IP specificato qual è il robot collegato. In questo caso abbiamo collegato un i4L di taglia 450. Colleghiamoci al robot e dopo aver premuto il tasto Connect si aprirà la schermata principale di ACE. Una volta collegati al controllore possiamo vedere che è stato aperto un progetto vuoto. Cliccando su View 3D Visualizer possiamo vedere la rappresentazione virtuale dell'attuale configurazione del robot. Clicchiamo su View e apriamo il jog control. Qui è possibile movimentare il robot tramite il software ACE utilizzando il jog proposto in questa interfaccia. Diamo coppia ai motori del robot, quindi accendiamolo. Aumentiamo la velocità e possiamo joggare, ovvero movimentare il robot, secondo sistema di riferimento Word oppure Tool oppure per Giutti. Tramite questa interfaccia è anche possibile definire un punto, ovvero una location. Cliccando sul tasto più si aprirà questa nuova schermata e possiamo definire il nome di un punto e le attuali coordinate di una location. Il tasto Record consente di registrare posizione attuale del robot e possiamo visualizzare il punto definito o come terna o solamente come punto. Muoviamo il robot in un'altra posizione e registriamo un nuovo punto. Questo secondo punto lo chiameremo P2.Lock. Sia il precedente che questo fanno riferimento ad una location. Oltre ad ACE possiamo definire un punto utilizzando per esempio la pendant. Movimentiamo il robot giunto per giunto tenendo premuto il pulsante posto sull'outer link, ovvero sul link più esterno, e utilizzando la pendant a T20 è possibile insegnare per esempio una certa location alla quale abbiamo portato il robot. Il tasto Enable Power consente di mettere in coppia il robot. Invece il tasto Jog consente di selezionare il tipo di movimento che vogliamo effettuare al robot, o interna Word, o interna Tool, oppure movimento di giunti. I tasti di più e meno consentono di movimentare il robot giunto per giunto, oppure lungo gli assi cartesiani. Cliccando su Disp possiamo vedere l'attuale posizione come location, oppure come giunti, del robot nel punto attuale. Cliccando su Lock qui sarà possibile definire una location. Per esempio utilizzando il tasto New possiamo definire un punto. Abbiamo cliccato New e vediamo come la nuova posizione si chiama pendant.lock e fa riferimento ad un array di posizioni. Qui abbiamo creato la posizione all'indice 0, la posizione attuale del robot. Possiamo successivamente muovere il robot in un'altra posizione. Sempre tenendo premuto il tasto sull'outer link spostiamo il robot in un altro punto. Riprendiamo in mano la pendant, rimettiamo in coppia al robot cliccando sul pulsante Robot Power e come visto in precedenza, cliccando su New possiamo popolare l'array di location con un'altra posizione, ovvero la posizione nuova e attuale del robot che abbiamo appena definito. Per visualizzare le due nuove location definite tramite la pendant T20, clicchiamo sul tasto di sincronizzazione e trasferiamo dal controllore del robot al progetto ACE tutte le variabili e i programmi definiti. Infatti cliccando su Transfer from Target il campo Variables si aggiornerà con l'array pendant.lock ovvero l'array di location definite nella pendant. Possiamo sempre cliccare su Display as Frame per visualizzare i punti ma sarà necessario ricordarsi di associare quelle location al robot affinché questi punti possono essere visualizzati nel 3D Visualizer. Qui possiamo vedere la posizione 0 e qui invece ci sarà il secondo punto che abbiamo definito la location nella posizione 1 dell'array pendant.lock. Andiamo a movimentare ora il robot e definiamo una nuova posizione. Cliccando sul tasto più definiamo un nuovo punto, questa volta di tipo Precision Point. Infatti il campo Value avrà 4 coordinate e non 6 che rappresentano i valori di giunto del robot in questo nuovo punto. Il punto P3.PP appena definito avrà come prefisso un cancelletto proprio ad indicare la differenza rispetto ad una location. Questo Precision Point è visualizzabile allo stesso modo come gli altri. Semplicemente cambia la modalità di rappresentazione del punto che non sarà più una terna di 6 coordinate rappresentanti un frame ma 4 valori rappresentanti gli angoli di giunto del robot in quel punto. Vediamo ora insieme i comandi motion base che consentono di movimentare un robot in base appunto alle location o ai Precision Point che sono stati definiti. Creiamo un nuovo programma, cliccando sul tasto destro in Vplus Modules, rinominiamolo come prg.motion e apriamo l'editor di programmazione Vplus. Qui in questo programma possiamo definire i comandi necessari a movimentare il robot. Per poter movimentare un robot è necessario selezionarlo e bisogna utilizzare la keyword Select Robot e dire qual è il numero corrispondente del robot. L'istruzione Select Robot consente quindi di selezionare un robot e associarlo ad un determinato task. Bisogna prestare attenzione ad alcune cose. Per esempio è possibile selezionare un robot alla volta e se selezioniamo un robot verrà automaticamente deselezionato il robot precedente. La variabile globale Rob non è stata definita. Infatti dobbiamo dire qual è il numero di robot che dobbiamo selezionare. Per questo definiamo questa variabile e associamola al numero di robot che troveremo nel campo Configuration sotto Robots. Apriamo il robot in questione, il 4L450, e possiamo vedere che il robot number corrisponde a 1. Quindi associamo alla variabile Rob il valore 1. Sarà poi necessario associare il programma anche al task sul quale vogliamo eseguirlo. A questo scopo è necessario utilizzare l'istruzione Attach. L'istruzione Attach fa sì che il dispositivo selezionato sia attacciato, ovvero associato, al task specificato. In questo caso, avendo selezionato il robot 1 e avendo utilizzato la keyword Attach, quando eseguiremo questo programma prg.motion su uno dei 24 task presenti, il robot 1 verrà associato a quel task. E quel task potrà eseguire le istruzioni di motion che consentono di movimentare il robot. È importante sapere che un task alla volta può eseguire delle istruzioni di motion, e quindi sarà necessario attacciare o detacciare un robot da un task ad un altro, se per esempio vogliamo eseguire delle istruzioni di motion sul task 2 oppure sul task 4. Rispetto al task 0, invece, il robot viene automaticamente attacciato o associato a questo task. Vediamo ora insieme quali sono le prime istruzioni necessarie a movimentare il robot. A questo scopo è necessario utilizzare la keyword Move. Abbassiamo la velocità del robot. Sotto Task Status Control modifichiamo la speed, la monitor speed, da 50 a 20, ed eseguiamo il programma prg.motion sul task 0. La keyword Move fa sì che il robot si movimenterà verso la location più uno punto lock, che abbiamo definito in precedenza. Quindi utilizzando la stessa istruzione Move per il punto 2, possiamo muovere il robot dal punto 1 al punto 2. Lo stesso vale per il Precision Point, ricordandosi di mettere come prefisso il cancelletto. Eseguiamo questo programma e il robot si movimenterà prima dal punto 1, poi alla location 2, e infine nel Precision Point 3. Nello specifico, l'istruzione Move è quell'istruzione che permette di eseguire un movimento espresso nello spazio dei giunti. Questo significa che per movimentare il robot da un punto iniziale a un punto finale, verrà eseguita un'interpolazione tra i punti intermedi della traiettoria. E questa traiettoria non è conosciuta a priori. Infatti non possiamo definire quale sarà il movimento nello spazio del robot. Il vantaggio nell'utilizzare questa istruzione è che questa consente il movimento più rapido dei giunti del robot. Questi manterranno velocità costante e il robot cercherà di muoversi da un punto iniziale ad uno finale, nello spazio più breve e nel tempo minore. E questo fa sì che l'istruzione Move permetta di eseguire i movimenti più rapidi possibili. Questo non è lo stesso se utilizziamo l'istruzione Move S. L'istruzione Move S, invece, dove S sta per Straight, cioè lineare, è un'istruzione di movimento eseguita nello spazio cartesiano. A differenza dell'istruzione Move, l'istruzione Move S fa sì che si esegua una traiettoria lineare, e quindi a priori conosciuta, a scapito però della velocità. Il grosso vantaggio di una Move S, quindi, è quello di poter definire e conoscere a priori la traiettoria. Però bisogna anche tenere presente che quella traiettoria lì potrà anche portare il robot in situazioni di singolarità, per esempio in situazioni dove non è possibile raggiungere quel punto. Apriamo ora il 3D Visualizer e vediamo la differenza rispetto all'istruzione Move definita in precedenza. Cliccando sulla U, quindi portando la camera del visualizzatore 3D sopra il robot ed eseguiamo il programma, possiamo vedere come le istruzioni consentono una movimentazione lungo delle rette che uniscono ciascuna location. Tra un punto e il successivo il robot esegue un blending, ovvero un raccordo, per far sì che tra un punto comandato e il successivo il robot possa avere una continuità nell'eseguire quella traiettoria senza interrompersi. Possiamo invece utilizzare l'istruzione Break per far sì che il robot si fermi, ovvero si arresti, quando raggiunge un punto, invece di raccordare quel punto con il successivo. Quest'istruzione la vedremo tra poco. Ora vedremo il comando Apro. Solitamente in un'applicazione di pick and place è necessario prendere un oggetto e depositarlo in un punto, ma per evitare collisioni e ingombri è necessario portare il robot sopra un punto, muovere l'utensile sopra l'oggetto per prelevarlo e poi allontanarsi. A questo scopo è necessario utilizzare due istruzioni, Apro e Depart. L'istruzione Apro è l'istruzione necessaria se vogliamo eseguire un approccio ad un punto. In questo caso, per esempio, stiamo definendo un approccio rispetto alle location di 25 mm per la prima location oppure di 30 mm per la seconda location. In modo analogo, fatto con le location, possiamo anche eseguire un approccio per i precision point. Così come per le istruzioni Move e Movesse, Apro esisterà in due forme. Apro per movimenti rigiunti e Apro per movimenti lineari. Possiamo qui variare l'altezza in base alla distanza di approccio desiderata. Con l'istruzione Apro invece, come detto poco fa, il movimento sarà lungo una traiettoria lineare, cioè definita da una retta. L'istruzione Break invece è l'istruzione citata poco fa, che consente di interrompere il movimento del robot non appena raggiunge, per esempio in questo caso, la location P1 oppure la location P2 o il precision point P3. Nello specifico, la Keyword Break va ad interrompere quello che è chiamato Continuous Path, ovvero un percorso continuo, una traiettoria continua, che esegue il robot per blendare, cioè raccordare, tutti i punti di una traiettoria definita. Il Continuous Path consente quindi di eseguire delle transizioni morbide da un punto ad un altro punto che è stato definito nel nostro programma. Senza il comando Break, il robot si muoverà da un punto, per esempio, più uno punto lock al successivo punto, cioè Apro in questo caso, se non dovesse esistere il comando Break, si muoverà in modo morbido, cioè senza fermarsi e raccordando le due location. Utilizzando Break si interrompe la funzione Continuous Path e il robot raggiungerà con estrema precisione il punto definito. Utilizzando l'istruzione Break e rieseguendo il programma, possiamo notare come il robot si interrompe momentaneamente non appena ha terminato di eseguire le istruzioni Move. Cancelliamo per il momento le istruzioni Break definite dopo Moves e aggiungiamo il comando Depart. La keyword Depart è l'analogo dell'Appro. Così come Appro, anche Depart può essere espressa in movimenti dei giunti oppure come traiettoria lineare, utilizzando Depart oppure Departs con la S. Ma a differenza della keyword Appro, l'istruzione Depart non fa riferimento a nessuna location. Infatti, Appro fa riferimento ad una particolare location o precision point e significa posiziona il robot sopra quel punto di tot millimetri definiti dopo la virgola. Il Depart, invece, è una movimentazione relativa rispetto a dove il robot si trova in quel momento e significa alza il robot di tot millimetri. Depart, infatti, esegue un movimento relativo opposto rispetto la Z del tool, cioè rispetto al frame del tool, il robot eseguerà il valore in millimetri espresso dopo Depart in senso negativo e quindi è utilizzato per allontanarsi da un punto dopo un prelievo, per esempio. Eseguendo questo programma, possiamo notare come il robot si porta sopra una location o il precision point per poi raggiungerlo e poi allontanarsi con il comando Depart. In questo caso, non abbiamo utilizzato l'istruzione break. Infatti, non notiamo che il robot si ferma o rallenta nel punto di prelievo definito, per esempio, da una moves. Aggiungendo dei break point al nostro programma, possiamo momentaneamente interrompere l'esecuzione del programma e movimentare il robot sopra ciascun punto definito dalle istruzioni Apro, Move e Depart. La location P1 e il precision point P3 saranno interrotti da questi break point. Invece, la location P2 sarà raggiunta normalmente e non vi è una interruzione del programma. Questo un po' a sottolineare l'importanza del comando break. Infatti, l'istruzione break è necessaria dopo una moves o una move per far sì che il robot completi l'istruzione di movimento, azioni per esempio un tool, per poi allontanarsi utilizzando il comando Depart. Se non dovessimo utilizzare il comando break, il robot eseguirà tutte queste movimentazioni in continuous path, blendando ciascun punto. Reinserendo appunto le istruzioni break, possiamo notare la differenza rispetto al programma precedente. Abbiamo parlato di punti, location, precision point, quindi è anche importante sottolineare e specificare meglio alcune istruzioni necessarie a definire dei punti nello spazio. Queste istruzioni sono le istruzioni set e trans. Abbiamo infatti visto che una location è definita da un set di sei coordinate. Sarà quindi possibile modificare il valore di queste sei coordinate a proprio piacimento tramite il programma V+, utilizzando l'istruzione set e trans per le location. L'istruzione set, infatti, rende possibile modificare il set di coordinate, quindi questi sei valori, di una certa location. Sarà necessario utilizzare set per referenziarsi ad una variabile di tipo location e il comando, l'istruzione trans per definire le sei coordinate x, y, z e le tre rotazioni secondo la convenzione di Eulero. Così fatto possiamo modificare una location. Eseguendo nuovamente il programma, possiamo verificare che la location più uno punto loc verrà modificata. Commentiamo le istruzioni di movimento, selezionando e cliccando su commenta e rieseguiamo il programma, questo per non far eseguire al robot le istruzioni di movimento. Possiamo vedere che eseguendo il comando set loc uguale trans, questa location assumerà nuovi sei valori. Questo è stato fatto per una loc, ma allo stesso modo è possibile modificare un precision point. Utilizzeremo sempre l'istruzione set, seguita dal nome del precision point definito come variabile globale, e invece di trans utilizzeremo la keyword cancelletto p point. Questa consente di ridefinire i quattro valori, le quattro variabili di giunto del robot associate a quel precision point. Quattro, perché stiamo utilizzando un robot scara. Diversamente, se stiamo utilizzando un robot antropomorfo, avremmo sei valori corrispondenti ai sei assi. Allo stesso modo, rieseguendo il programma, vediamo come questo valore di questo precision point viene modificato grazie all'istruzione set. Un'altra istruzione utile per movimentare il robot giunto per giunto può essere quella di utilizzare una jmove. Questa fa sì che è possibile definire direttamente i quattro valori rappresentanti gli angoli di giunto desiderati. Quindi eseguendo, in questo caso, jmove 0, 20, 100, meno 36, i giunti 1, 2, 3, 4 verranno movimentati a quei valori che abbiamo definito. Oltre a dei valori espliciti, è anche possibile associare delle variabili. Queste sono le istruzioni base che consentono di movimentare un robot. Abbiamo visto insieme come è possibile selezionare un robot e come è possibile associarlo ad un determinato task e quali sono, per esempio, le istruzioni move, apro, depart necessarie per eseguire una prima applicazione di pick and place. Potete fare pratica con queste istruzioni e con la programmazione Vplus utilizzando ACE in modalità emulazione. Questa permette quindi di definire un'applicazione anche in modalità offline senza avere necessariamente a disposizione un robot. Aspetta ora a voi fare un po' di pratica utilizzare ACE, la programmazione e Vplus. Io vi ringrazio per aver seguito questo video e non dimenticate di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sui prossimi contenuti.